Elegante e con tanti libri, ecco la casa di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La moglie del celebre conduttore TV pubblica spesso su Instagram alcune foto di ambienti domestici. A risaltare all'interno della dimora sono gli oggetti utilizzati per impreziosire la casa, come dimostra il complemento d'arredo con il logo Love, un tappeto zebrato sul parquet e il tavolo di casa, elegante e con un design particolare realizzato con le lettere S e B, ossia le sue iniziali. In casa è presente inoltre una grande libreria. Quella dei libri sembra essere una vera passione di famiglia, come lei stessa scrive su Instagram nel post che accompagna l'immagine. Amo i libri e chi li legge? Il salotto è caratterizzato da Tony Caldi, la parete è infatti di colore arancione ed è presente un comodo divano in stile retro, ideale per coltivare l'obli per la lettura. Controllando sul profilo social di Sonia poi emerge anche un'altra passione, quella dei prodotti di bellezza.